C'è un videogame uscito nel lontano 1997 su Nintendo 64 che è considerato a ragione una delle pietre miliari del genere FPS su console. Si tratta di GoldenEye 007, ovviamente ispirato alle gesta della spia al servizio di sua maestà. Questo titolo su Nintendo 64 ha introdotto delle meccaniche di interazione che hanno fatto scuola. Al timone ai tempi c'era Rare. Oggi invece c'è Eurocom che ha fatto un ottimo lavoro con il remake per Nintendo Wii uscito l'anno scorso. Remake invidiato dai fan Xbox e PS3, così tanto da indurre lo sviluppatore ad approntarne una versione Reloaded con l'aggiunta dell'alta definizione. Ecco GoldenEye 007 Reloaded. GoldenEye 007 Reloaded riprende la leggendaria trama di GoldenEye che abbiamo riproposto l'anno scorso su Nintendo Wii e la porta per la prima volta sulle console ad alta definizione. Mentre realizzavamo il gioco per Wii ci siamo accorti che c'era un forte interesse da parte del pubblico che chiedeva a gran voce di poter giocare GoldenEye anche su Xbox 360 e PlayStation 3. Il team di Eurocom Technologies si è dunque messo al lavoro per ricreare il motore grafico da zero, potendo contare ora su 60 FPS e fino a 16 giocatori in multiplayer, il tutto in alta definizione. Rispetto alla versione per Nintendo Wii, alla semplice campagna single player si aggiunge una nuova modalità chiamata MI6 Ops, fatta di singole missioni brevi legate alla trama principale. Ve ne sono di diversi tipi. In Elimination si dovranno eliminare dei bersagli in un determinato tempo, in Assault si dovrà attaccare una base, e poi ancora Stealth per gli amanti della furtività, e Wave Defense per chi ama barricarsi e affrontare ondate di nemici. Ognuna di queste missioni sarà personalizzabile e i settaggi e il punteggio verranno pubblicati online, così i vostri amici potranno selezionare la stessa versione di quella missione e provare a fare meglio. Volevamo garantire al giocatore la possibilità di approcciare il gioco in modi diversi, quindi si potrà agire silenziosi e furtivi o farsi strada a colpi di mitra. Il nostro obiettivo era alzare il livello di gioco, questo è l'unico Bond Game sul mercato ed era importante dare il massimo per i fan. Nel gioco troverete quindi la voce originale di Daniel Craig e le sue sembianze, per sentirvi, fino in fondo, la spia più famosa al mondo. Proprio il fatto di essere un Bond Game ci ha permesso di attingere a 50 anni di storia e a tutto il patrimonio che rende grande l'universo di 007, come i cattivi per eccellenza. Ci sono un sacco di ottimi first person shooter là fuori, la competizione è dura, ma abbiamo lavorato per offrire il meglio. GoldenEye 007 Reloaded uscirà il 4 novembre su PlayStation 3 e Xbox 360. Xbox 360 questo falle.